Dylan Dog Color Fest numero 41, una storia soltanto inedita dal titolo L'orrore delle armi. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Dylan Dog e andiamo a parlare della serie Color Fest, la serie più sperimentale, la serie dove appunto è un tripudio di colori e dove francamente non mi aspettavo di trovare in una storia così colorata un argomento così serio, scabroso e dannatamente attuale, dannatamente fastidioso e reale perché io suppongo questa storia l'abbiano scritta un anno fa al più presto se non prima, ciò nonostante è comunque attualissima. Lo sapete, c'è ormai da tre mesi la guerra in Ucraina a causa dell'invasione russa, di recente c'è stata una sparatoria all'ennesima negli Stati Uniti, che cos'è la tremillesima? Non lo so. Quindi ecco, questo titolo, questa copertina, tanta roba, tanta roba. Ho aspettato, scusate tantissimo il ritardo se in questi giorni mi avete visto meno attivo di quando avevo il Covid, però appunto ho voluto aspettare un po' perché ho detto aspettiamo che venisca il conflitto in Ucraina. No, ho detto aspettiamo che smettano negli Stati Uniti di utilizzare le armi e di vendere dal supermercato. No, ho detto aspettiamo che i dilangdioti dei primi cento smettano di lamentarsi perché questo non è dilangdog. No, semplicemente ho avuto da fare, perdonatemi. E poi queste camicie rosse non si stirano da sole. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che odiano le armi e che odiano la guerra. Salutiamo anche gli amici americani che non vedranno questo video e di commentare qui sotto con quello che viene apparso appunto di questo numero e di questo video e seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, dove ogni tanto faccio delle live e ogni tanto sono anche a tema dilangdog. Di solito quando c'è l'unione del colorfest, dell'oldboy, della serie regolare io faccio una live, però a sto giro l'oldboy l'ho proprio superato. Però sentiamo, sentiamo magari gli altri stimati colleghi, se hanno voglia di chiacchierare. Dilan Dog, l'orrore delle armi. Allora, innanzitutto io quando trovo un'unica storia nel colorfest sono sempre molto affascinato di vedere una storia completa a colori. In realtà a me, in generale, Dilan Dog a colori mi attira sempre, per quanto ne riconosco il valore in bianco e nero. Se non sbaglio, l'ultima storia totale, quindi dall'inizio alla fine di 96 pagine del colorfest è stata la numero 33, che è una delle mie preferite in assoluto. Davvero, davvero tosta. Questa, come argomento, siamo lì. Però devo dire che forse in questo caso l'avrei preferita più corta, perché devo dire che stare 96 pagine al fronte è duro. È duro da sopportare come ce lo hanno raccontato. La storia di Gabriella Contu, che io non sempre riesco a trovare, diciamo, un'affinità con quello che lei scrive, però, diciamo, questa storia mi è piaciuta. Non è una storia di Dilan Dog, nel senso che poteva esserci benissimo qualcun altro al posto di Dilan? Sì, è vero. Poteva essere benissimo una storia indipendente in cui un protagonista X andava in un museo e faceva questo viaggio, no? Sul viale dei ricordi, entrava in questa vita di questi soldati e passava in prima persona le esperienze che noi abbiamo visto narrate. Sicuramente non era necessario disturbare Dilan Dog, ma noi che siamo fan di Dilan Dog, possiamo anche capire la leggera differenza tra numeri dove Dilan Dog è un totale spettatore della storia che gli passa davanti agli occhi e dove qui, è vero, poteva essere Dilan Dog come qualcun altro, però Dilan Dog in un certo senso è il protagonista. È attraverso anche la sensibilità che rappresenta Dilan Dog, la sensibilità del personaggio, sempre pronto ad aiutare gli ultimi, sempre pronto ad aiutare i mostri freaks, dai mostri veri della società, appunto dai pervenisti, dagli uomini in giacca e cravatta, dagli uccisori, in questo caso anche dagli ufficiali con la divisa, perché no? In questo senso poteva esserci, è vero, chiunque come protagonista, ma è una storia di Dilan Dog, perché un protagonista come Dilan Dog può farci capire meglio senza spiegare troppo quello che lui prova, perché noi già conosciamo Dilan Dog, già sappiamo chi è, sappiamo cos'è, sappiamo per cosa si batte, sappiamo a cosa tiene e è un valore aggiunto che questa storia sia stata veicolata da Dilan Dog. I disegni sono di Giorgio Pontrelli, hanno delle, vabbè, la tavola, le tavole sono molto classiche, una tavola A6, non ci sono particolari, così a memoria, non ci sono particolari guizzi registici, quindi inquadrature particolarmente tagliate in modo storto, in modo comics americano, in modo manga, no, è una semplice griglia A6, sto sfogliando Aurora di nuovo e non sto nemmeno trovando delle splash page, però è molto particolare, usa anche dei toni pastello, questa prima tavola dove Dilan, tanto per cambiare, ha la macchina in panna e si ritrova in mezzo al nulla, questi colori pastello, caldi, mi hanno quasi ricordato le campagne toscane più che le verdi vallate dell'Inghilterra, che magari avrei, non so, colorato con dei toni più freddi, però mi è piaciuto davvero un sacco questo stile molto pastellato, quindi con poche ombre, in un numero dove fondamentalmente le ombre ci sono, le ombre ci sono nella narrazione, ecco, però mi piace che non sia stato un numero troppo cupo, forse anche proprio per dare anche un tono, se vogliamo, documentaristico a quello che viene narrato, come se ci fosse appunto una macchina ferma che ci fa vedere quello che scorre, in questo caso la macchina ferma è la griglia classica, quindi non ci sono delle opinioni registiche, ma semplicemente la videocamera del disegnatore è piazzata davanti agli eventi che succedono e noi li vediamo scorrere. Non c'è una firma registica di inquadrature, non c'è una firma registica di fotografia, i colori appunto sono pastelle, sono chiari, decisi, quello che c'è è quello che succede, non è un'interpretazione, ma è purtroppo la realtà, almeno. Non so se questo è stato voluto, se è una mia sovralettura, però appunto l'arte, diciamo, è finita quando la persona che la fruisce la interpreta e quindi questa è la mia lettura. Non mancano le scene splatter, anche se sono poche, fin troppo poche se vogliamo, considerati gli errori della guerra, ma va bene così, perché stanno parlando di altri errori. Non manca neanche la parte sovrannaturale, e qua sì che Dylan ha un senso, ha un senso la presenza di Dylan Dog in quanto indagatore dell'incubo, in quanto il suo quinto senso e mezzo lo rende più vicino alla sensibilità di certe cose, quindi lo ha reso più vicino a entrare nella mente, nella vita di questo Dylan o Brian, se non sbaglio, se non ricordo male, e a entrare anche a capire la vera natura di questo sergente, tenente guerra, scusate l'ho letto una settimana fa circa, il generale guerra, qualcosa del genere, e anche la natura del suo nemico, come siano in realtà uno yin e yang dove fondamentalmente rappresentano entrambi l'istinto primordiale che abbiamo noi idioti esseri umani, noi animali umani, di ammazzarci l'un l'altro. Istinto che è diventato sempre peggio con il razziocinio, il razziocinio che dovrebbe farci ripudiare questo istinto alla lotta, che è sacrosanto per la sopravvivenza, ce lo ha invece fatto elevare all'ennesima potenza, lo ha fatto diventare un kink, una perversione, qualcosa di innaturale. La guerra è innaturale, non altre cose. Chiaro? La guerra è la perversione assoluta dell'istinto di sopravvivenza della lotta tra due animali. Due animali lottano per istinto perché ti viene un istinto rabbioso, combatti, vinci, perdi, in ogni caso ti fai male, in ogni caso le prendi, in ogni caso le dai. Magari vivi, magari muori, ma è una lotta tra due animali. Solo l'essere umano è riuscito a portare tutto questo ed elevarlo a tribù, elevarlo a nazioni, elevarlo anche a darmi sempre più sofisticate per fare del male a qualcuno che in realtà è uguale a noi. È diverso solo per dei confini tracciati su una mappa, è diverso solo perché qualcuno ci ha insegnato male che è diverso, che ha un colore diverso e quindi lo devo sterminare nella mia scuola. Però questo è l'orrore delle armi, cioè chi le maneggia, ovviamente, chi le crea, chi le ha inventate. Tra l'altro ora mentre parlavo dei vari aneddoti di attualità mi è venuto anche in mente che se questo numero non vi coinvolgesse abbastanza dal punto di vista delle armi di per sé c'è anche un numero della serie regolare di qualche tempo fa in cui appunto degli studenti prendono in ostaggio una scuola e fanno una strage, che è il numero 422, il momento blu. Ecco, quindi se volete farvi un paio di letture che vi possano far, che ne so, esorcizzare l'orrore che c'è nella vita di tutti i giorni, nella vita reale con dei racconti di fantasia, perché nei racconti di fantasia c'è sempre un demone che si può sconfiggere, c'è sempre il male che perde e il bene che vince, vi consiglio appunto, oltre al color fest che trovate tuttora in edicola, vi consiglio di recuperare il 422, il momento blu. Purtroppo appunto nella realtà il male non sempre è definito, ma anche quando è ben definito, mi rendo conto che c'è comunque gente che non riesce a vederlo e ciò nonostante, anche se lo si riesce a vedere, non si riesce comunque a sconfiggere, a volte il male vince, a volte i buoni perdono, a volte i buoni muoiono. E quindi l'unica cosa che possiamo fare, oltre educare il futuro e le persone attorno a noi, è diciamo cercare di rifugiarci, cercare di esorcizzare tutto l'orrore scrivendolo, o nel nostro caso leggendolo, parlandone in modo da elaborarlo, come si elabora un lutto, ecco. Quindi è un po' a questo che servono anche i fumetti, che serve l'arte, che serve la lettura, che serve il cinema. Bene ragazzi, io ho parlato anche fin troppo, come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, magari qua in descrizione vi metto qualche film sulla guerra che io ho apprezzato, io non sono un grande amante dei film di guerra, ve ne metto un paio che ho apprezzato veramente, se volete acquistarli dai miei link Amazon eventualmente ve li metto qua sotto. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.